bella ragazzi e benvenuti a questo nuovo video io sono alferratimitcicca passati so con lui eh ho detto che brutta cosa ok e benvenuti a questo nuovo video io sono alferratimitcicca e oggi siamo su airbrides mansion non volevo neanche farla questa mappa guarda chi è? ma chi sei? qualcuno lo sai? oh ok un attimo di pausa perchè devo andare di la ottimo ok niente di che sono una ammazzata questa ammazzata? perchè io non la volevo neanche fare questa mappa si sono tutti oltro di me ma che? perchè? per te che gli vuoi certo? e non posso mai sceltarmi ora che bella che sei matte ah proprio poi ti ho messo una skin skinnosa oh mamma mia ma mi vedi quella skin tu matte? no certo che no secondo secondo ma io non riesco ad attaccare mamma mia io non riesco anche a cambiare arma ma il gecko lantern non riesco ad attaccare cosa c'entra il gecko lantern? eh eh sì ma il messo non riesco ad attaccare mamma mia se non muoiono questi eh 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 ritorno in grande stile da un po' anche lo faccio io ci tenevo a farlo mamma mia mamma mia muori oh non riesco a piuci neanche oddio si vabbè matte su spara così a caso non puoi ma mamma mia matte oggi sto dormendo un po' vabbè 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 anyway poi 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 ma mi attacca il boss spacchiamoli tutti eh anche a me mi attacca il boss iii oh dov'è? ma che caffi mamma mia se non muori ma sei rinfuocato eh non so che sei rinfuocato eh perchè io sono la ragazza di fuoco ahahah basta le battute oh eh che cavolo è perchè mi danno fastidio agli altri non i boss i boss eh è la cosa secondaria oh non mi vedi a me non mi vedi a me ora non vediamo a lui ti vedo però ahia l'ho colpito ho colpito un gecko hunter non lui dove sei? dove sei? ti vedo dietro di me eh va bene mamma mia attaccare alle spalle il suo forte non ci avremo mai è morto è morto è morto oddio è morto dovevo uccidere questo no non può essere morto è morto oh fermo tu ma scomma quando ti viene ucciso ma mi mi? cioè mi fa morire la camera eh che ti devo dire ora mettiamo ok vai deserto is there impossible sto leggendo la parte di aerobrine inglese perfetto beh non mi parli più eh aerobrine hai paura usciamo usciamo c'è un enderman un po' incavolato via oddio tu ma che mamma mia questi qua hanno l'arc uber power oh mamma e mi hanno ucciso in un cuore oh testa bassa e vai testa bassa e vai ma che nooo i pigmen merda hai guardato l'enderman io no eh no 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 non passeremo mai vi togliete grazie oddio questi qua sono velocissimi ma che merda i pigmen zombie eh ok sto passando e anch'io ho perso da sotto ah si ho perso da sotto no 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 sto andando io sotto così per vedere cosa c'è ma effettivamente sono morte qua chi è che ha ucciso i pigmen? no ancora vivo oddio corri come maledetto e vabbè però non lo riceveremo mai ho l'unica scelta ucciderti amico mi dispiace oddio ma che ricogliate tutti no mamma mia li dobbiamo uccidere pigman 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 di nuovo vuoi shottare? gli devo tipo shottare da qua oddio stanno passando tutti non è vero non è vero l'ho mancata questo lo prendo questo lo riprendo c'era un buco là in mezzo oddio per sbaglio ti ho preso amico non volevo oh io me ne vado basta ho già una spada ma quella la era la mia oddio te l'ho mollata no no non è vero perchè questa qua è tutta piena ma chi è? mamma mia e certo Aleman io me l'avevo usato si è incavolato l'enderman contro di me ma subito non muore perchè non mi bug mi bug più oddio ci sono gli zomi piccoli oh io sono passato ero passato oddio ma che è? oh ci sono pigman zombie con grande stile pure puro con grande stile non c'è più niente qua dentro ah ma sei tu quello pigman zombie morto si 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 ci godo ma non ho capito questo qua valga non riesci a colpirlo cadi maledetto oddio pigman zombie pigman zombie pigman zombie non soffrivo mai oddio pigman zombie pigman zombie non muore tra nessun motivo muore mamma mia ho bevuto una cosa di cuoricione io citto io citto io citto io citto io citto 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 non muore guardalo guardalo è brutta me la dosso sai che non muore perchè non muore ah mi è morto avevo ucciso pigman zombie no ora muoio ora muoio ora muoio ho preso l'enderman sono intelligente ma sono stato ucciso da enderman oh no mi attira io vado tu attira io vado oh alle te vai io intanto li tengo impegnati oddio devo scappare oddio oddio mamma sali e ti arano se sali ti arano si è vero se sali ti ci uccidono subito basta io ho cittato allora raga sarà la prima e l'ultima volta che uccito va bene ok non mettendo a cittare tanto dopo ti spavola davanti a quando non lo mi raccomare che ho tutti i server di merda non c'è niente in le scelte tu fai distrutto con le scelte sono intelligente vero a te che lo sono super ecco dovrebbe essere qua perché ci sono delle aranetele chi dovrebbe essere là? il boss ecco e chi sarebbe? dovrebbe essere il ragno oh il zoome piccolo sto distruggendo tipo la mappa e io invece non sto facendo niente ah bravo e bravo Matteo perché non so perché non so e anch'io no perché io non so che sto citando no ma io mi sono un test citiamo citiamo oh oh città al massimo proprio io sto citando alla grande oh spero non trovo la via mi dice prima zomiglio continuo a darà cioè se non c'erano i cit qua cioè mi arava devo trovare là oh ci togliete tutti se ne so vai vedo ero già morto che ero già morto mi aravano boss fight ero brine non possiamo ancora ma è vero ero brine ma va ma io la faccio cecità non posso avere cecità serenità Ah, Phonix, boh No, non vale Come sei? Sono dietro di te Io sto scendendo Non so dove è il boss Forse è di là Ci dobbiamo dividere, mi sta laggando la vita Ma letteralmente Oh Oh Ale, ma qua ritorniamo dove eravamo No, sono in un'altra parte Sicuramente non serve a niente O forse si Oh, mi sta laggando la vita Mi sta laggando la vita Mamma mia Minecraft come me lagga Mi si doveva fare tutta questa strada Eravamo già morti da un po' Ecco, forse qua Warming spiders Eccola qua Mi piace Ci diamo quest'ultimo Mamma mia, hai cantato questo? Cos'è? Sì Mi piace, mi piace Ok Questa parte prendila allora No Zero Non mi arano, non mi arano Ma si controlla il ciotolo? Non mi arano? Non mi arano, non mi arano Ma si controlla il ciotolo? Ma si controlla il ciotolo? Ma si controlla il ciotolo? No, 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 giusto mi arano un po' Eh sì, adesso vado al boss E invece non so dove sto Si arriva al boss e poi boss Ok, io non ce lo faccio Concludiamo sempre con un boss Il boss della mafia Ok You can use your weapon to the spider As he has Sì, sì Non capito niente Ora non ce ne è più so qua Ora ti scanno Ora ti scanno Amico mio Bella Ora ti spavano davanti allo spider Arata says My little friends are coming for you Sticky human Ma si è incastrato? Ma chi? Sì Ma sei tu incastrato? No, mamma Oddio questi qua sono venenosi Oddio ma Ma che? Sticky human Sticky human Sticky human No, no, no Sei tu Sticky human? Ma che? Un favore Dov'è il nostro boss? Non sono questi Ma che? E' questo? Ma va Ammazzati Ce la farò mai Ok? Direi che Chiudiamo qui Se vi piace il nuovo video Metetevi il video Mettete il mi piace A capo A facebook O trovate il video sotto In descrizione Perci tutto Bella ragazzi